Buongiorno a tutti, del immobiliare Porto Mantovano. In questo video vi facciamo vedere un esempio di un appartamento in vendita, ricordandovi che se dovete vendere o affettare il vostro immobile non dovrete pagare alcuna provvigione. È un esempio, appunto, come vi dicevo, di un immobile in vendita, per farvi vedere le venditure che solitamente vengono effettuate da questo costruttore. In descrizione vi metto comunque il link degli annunci dei cantieri in costruzione, chiamateci per maggiori informazioni e personalizzare anche voi il vostro appartamento. Iscrivetevi al nostro canale per ricevere nuovi video. Sono comunque appartamenti ad alto risparmio energetico.